Il prefetto dell'Aquila Giancarlo Di Vincenzo ha preseruto questa mattina a Sulmona il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza all'indomani del weekend particolarmente violento in pieno centro storico tra coltello e lancio di bottiglie nella Maxiris tra giovanissimi che non ha avuto strascichi in ospedale ma nel corso della quale qualcuno si è pure ferito. Il prefetto all'indomani del suo insediamento sta conoscendo le singole realtà nel corso del vertice con i rappresentanti delle forze dell'Ordine sono stati trattati tutti i temi riguardanti la tutela della sicurezza pubblica e sarà quindi auspicata la massima collaborazione al riguardo tra le forze dell'Ordine e le istituzioni. Tra le iniziative concordate spicca un rafforzamento di attività preventive per contrastare l'abuso di alcol tra i giovani nell'ultimo periodo. Folizie e carabinieri hanno ritirato diverse patenti ma anche più controlli preventivi per calmirare il divertimento con la sicurezza e la quiete pubblica in centro storico e non solo.